Ciao ragazzi, ciao ragazzi, buongiorno a tutti di nuovo, ed è rieccoci qua di nuovo con i 10 prodotti beauty terminati del periodo. Avrete già visto sul mio canale che faccio i video dei prodotti terminati quando ne accumulo 10, non di più perché se no, secondo me rischiamo a allungare utilmente il video. Già ci sono io che parlo, in più ci saranno tantissimi prodotti e così anche per me è un po' la spinta per finirne sempre di più per pubblicarvi degli altri video nuovi e parlarvi subito dei prodotti che termino, che magari li trovate ancora in offerta o in distribuzione in alcuni casi. Bene, passiamo subito ai prodotti terminati beauty, come sempre comincio dai promossi, in questo caso sono 5 e 5 bocciate, nei bocciate, che non ricomprerei. Dai promossi cominciamo dal mio contorno occhi in assoluto preferito, io l'ho tagliato, perché io taglio le confezioni, queste qua ovviamente, quelle morbide che si possono tagliare e perché per quel che costano bisogna usare fino all'ultimo centesimo, ero passata qua in mezzo con il cotton fioc, ho tirato fuori tutto, 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 insomma i 30 euro che ho speso per questo prodotto li ho utilizzati tutti. Allora, è il mio contorno occhi in assoluto preferito della Benton, eccolo qua, buonissimo, lo riacquisterò, adesso ho quello della Mison di cui vi ho parlato nel video precedente, dello shopping su Notino, però questo è il contorno occhi in assoluto migliore che io abbia mai provato e ovviamente qua vi metterò tutte le foto dei prodotti ovviamente promossi, dei bocciati, è anche inutile mettervi proprio la fotografia perché non... a meno che non li promuovo per un'altra tipologia di pelle, un'altra tipologia di capelli, allora sì, se no non ha proprio senso farvi vedere nel dettaglio i prodotti che a me non sono piaciuti. Questo qua in assoluto è il miglior contorno occhi, ve lo consiglio vivamente, per adesso l'ho visto solo su Notino, che direggio l'ho visto in un negozio fisico anche, che è la domestica, in Piazza Fontanesi però costa molto molto di più. Se su Notino lo trovate a 30€ però per 30g, quindi sarebbero di solito i contorno occhi di 15ml, quindi 15g più o meno, li trovate a 30€ quelli, insomma, dei marchi un pochino più famosi. Quindi non è male un euro al grammo, se ci pensate bene, perché ne trovate quelli di grande distribuzione, che ne so della Nivea di Garnier, allo stesso prezzo. Questo invece è molto molto valido, quindi assolutamente promosso e la prima volta che lo... no, la seconda volta che lo termino. Bene, non mi dura tantissimo perché ha una consistenza non molto fluida, esce un pochettino... Una consistenza di... 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 come spiegarvi... una specie di panna, ecco, di panna non montata, di panna cotta. Ecco, con la consistenza che si stracca a pezzettini, però dopo lo scaldate, lo applicate sotto il contorno occhi ed è buonissimo. E quindi non vi dura tantissimo, ecco, perché non è oleoso, e meno male. E... però, insomma, ne vale la pena, a me dura circa sei mesi. Trenta euro sei mesi... una... lo ammortizzo bene, insomma. Bene, allora, poi, un altro prodotto strapromosso che ho terminato è l'olio denso. L'olio denso è il prodotto di Veralab, è un oglietto. Questa è la travel size, io adesso ho la full size che ho comprato col Black Friday. Intanto è molto igienico perché è airless... uh, stava uscendo qualcosa, no, non c'è più niente. Airless è un po' difficile da capire quando termina, però con il telefono e la torcia ho imparato dalla mia amica, dalla mia amica amica virtuale, insomma, qua su YouTube, è la mia nuova conoscenza, Karen. Ho imparato a vedere quando siamo al... in... diciamo, alla fine del prodotto. è perché con queste confezioni così bianche non si vede molto bene. Lei praticamente utilizza... una volta in un video ho fatto vedere che con la torcia del telefono metteva la confezione contro la torcia, quindi contro luce, e si vedeva un po' il livello di consumo di questi... di questo tipo di prodotti, di queste confezioni bianche, insomma, o bianche o di un altro colore, dove non si vede bene a che punto stiamo. Bene, un oglietto denso, quindi davvero un gel, che con una pusciata io faccio tutto il viso, si deve applicare sulla pelle asciutta, io parto dagli occhi, che trucco di solito di più, le labbra, il viso e tutto, sciolgo bene il trucco, è proprio una coccola alla fine di una giornata, insomma, di lavoro oppure di divertimento, è una coccola per il viso, non mi fa uscire le imperfezioni, anzi, me le migliora, non so in che modo, è un olio, però a me piace un sacco, è un prodotto che ricoprerò sempre di Veralab, come vi ho detto, non mi sono piaciuti tutti i prodotti di Veralab, ma questo in particolare sì, la travel size di 30 ml, che costa sui 15 euro, scusatemi, se non mi ricordo male, l'ho portata avanti per circa due o tre mesi, quindi anche un buon rapporto quantità, qualità, quantità, prezzo, lo utilizzo con il mio panno di microfibra, che ancora non ho finito, perché ancora strucca benissimo, e sicuramente quando finirà la full size, ce ne vorrà sicuramente, e lo ricomprerò assolutamente, il mio prodotto promosso di sempre. Poi ho finito questa mascherina qua, che mi hanno regalato le mie care amiche, Barbara e Lisa, le saluto se stanno guardando il video, è la maschera idratante, brand di Puro Bio, con acido di aluronico, per la pelle secca, io non la pelle secca, però ho utilizzato questa maschera, che tra l'altro sapeva di banana, era giallo acceso come colore, e l'ho utilizzata quando sono tornata dalla montagna, in Calabria, siamo stati alla Sila per quattro giorni, e la pelle del mio viso si è seccata molto, avevo proprio delle pellicine, fatto una volta questa maschera qua, mi ha risalato la pelle senza ungermela, senza farmela diventare ancora più grassa di quella che è già, è mista, però in alcuni punti le imperfezioni si fanno vedere, più che sentire, l'ho tenuta 10 minuti, perché tendo a rispettare il tempo di posa che è indicato sulla maschera, e ve la consiglio assolutamente, non so quanto costi, non lo vado neanche a verificare, vi lascerò comunque sotto il link, come sempre, perché è un regalo, non lo faccio mai per i regali. Bene, altri due prodotti di grande distribuzione finiti, è il bagnoschiuma della DAV, allora il bagnoschiuma della DAV, non c'è più che tenga, sono buonissimi, buonissimi, li prendo di solito in offerta, tutti i bagnoschiuma li prendo in offerta, hanno l'odore stupendo, e hanno veramente, sono veramente idratanti, per me hanno la glicerina al terzo posto, ovviamente sono idratanti, per me sono proprio una coccola la sera, non li compro sempre, però quando li compro, tra l'altro non finiscono subito, perché è veramente una noce di prodotto, vi basta per, io appunto utilizzo la spugna, vi basta per tre mesi, per lavarli tutte le sere, quindi assolutamente promosso, l'abbiamo utilizzato insieme con l'uomo di casa, e anche a lui questa profumazione di burro di karité e vaniglia, nonostante sia molto dolce, però alla fine della giornata, lo volevo riannusare perché è buonissimo, e piacevole, quindi promosso anche dall'uomo di casa. Bene, l'ultimo prodotto promosso, finito, beauty, è questo sapone mani, anche qua non c'è più che tenga questo odore, di questo sapone qua, melone e anguria, e poi ce n'è un altro, secondo me frutti rossi, questo lo adoriamo entrambi, sia io che è il mio moroso, è buonissimo questo profumo, è buonissimo, mamma, sa di melone e anguria, insieme, mamma mia, l'estate in una confezione di sapone, è buonissimo, non secca le mani, tra l'altro, e vi rimane questo odore, cioè per il tempo necessario, quando state mangiando non sentite l'odore di melone e anguria, assolutamente no, di fresh and clean, mi dispiace che non facciano le confezioni, quelle da due litri, risparmio sia in termini di soldi, sia in termini di plastica, purtroppo mi dispiace perché comprirei sempre quelle, ci sono solo queste confezioni qua, io ho il dispenser dell'IKEA, in bagno devo travasare, quindi non è comodissimo per quello, infatti non lo ricompro spesso per questo motivo, e poi non sono neanche molto economici. Vi volevo parlare, tra l'altro, sulle labbra, vedete, vi ho parlato in un video precedente, della combo che utilizzo, la matita della Kiko, la 318, e il gloss della Kiko, fatemi sapere se vi piace, a me piace un sacco, come, oddio, come abbinamento. Bene, passiamo ai prodotti bocciati, finiti, quindi andiamo velocissimi, e questo shampoo qua, ve ne avevo parlato nella mia hair care routine, non è male, questo bocciato per me, però sicuramente perché i capelli un pochino più grassi dei miei, va bene, a me sgrassava un po' troppo, anche l'odore non mi faceva impazzire, secondo me, vedete già così, perché ogni tanto vedo che è vicino un po' troppo, i prodotti, cioè ve li trovate proprio qua davanti alla faccia, quindi adesso stiamo un pochino più, manteniamo un po' le distanze, ecco, anche perché sono un po' raffreddata, quindi, ah, che battuta, vabbè, scusatemi, ogni tanto esce la mia vena ironica, e quindi lo shampoo di per sé mi è piaciuto, mi è stato omaggiato dall'azienda officina dei saponi, che fa i saponi buonissimi, lo shampoo forse un pochettino troppo forte per me, zenzero e limone, purificante e rivitalizzante, da utilizzare una volta ogni due settimane andava bene, scusatemi, due volte a settimana come mi lavo i capelli, due o tre volte a settimana, è un po' troppo, un po' troppo per me, mi sgrassava troppo, però chi ha i capelli grassi, e chi li lava, non molto spesso, chi ha i capelli grossi, grassi, ecco, e va benissimo. Poi, un altro bocciato, mi, però non lo ricomperò, è questo detergente intimo, dopo i vari vicinetti, adesso parliamo di detergenti intimi, però secondo me è una cosa, cioè, io spesso compro i detergenti intimi consigliati dalle altre ragazze, perché secondo me non è neanche facile trovarne uno buono, questo qua, no, insomma, intanto la pompetta con una pusciata intera, faceva uscire troppo prodotto, e quindi dovevi stare lì a, insomma, cercare di, di capire la quantità giusta, no, la pusciata deve far uscire il prodotto giusto, come nel caso di olio denso, cioè sono, devono essere fatte apposta, adesso non so dentro come siano fatte, però l'abbiamo utilizzato, l'abbiamo finito, va benissimo, io ne ho uno, mio preferito, dell'equilibra, l'aloe, quello lo ricompriamo sempre, anche se costa di più, adesso col 20% da Tigotana, abbiamo fatto un po' da scorta, quindi questo, no, non lo ricomperò più, poi, poi, scendo un po' nel, con, oddio, con il livello di importanza scendiamo, perché altri prodotti sono proprio delle cioffecche, e, forse questo è più o meno mi è piaciuto, questi copri spazzolini, credo si chiamano così, sì, toothbrush covers, copri spazzolini, c'è ancora il prezzo della Primark, ce n'erano, 5 qui dentro, purtroppo non ne ho uno da farvi vedere, perché è proprio sullo spazzolino che ho, in ufficio, però fatti così, erano fatti in questo modo, questo è quello che utilizzo adesso a casa, io li utilizzo sempre, non solo per viaggiare, ma anche in casa, e, erano colorati, quindi ce n'erano di verdi, gialli, rosa, non male, però, ecco, non avevano, scusate, ta da 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 da, oppla, riemergo, e, non avevano i buchini, questo qua, se notate, è della Colgate, quindi era incluso nello spazzolino, perché non tutti gli spazzolini hanno il copri spazzolino, quante volte ho detto spazzolino, vabbè, hanno i buchini che fanno traspirare le setole, questi no, questi no, quindi per quello non ne ricomprerò più, è poi un euro troppo a plastica, se qualcuno riesce a consigliarmi, sicuramente la Franci, che lei è molto più, la mia cara amica, ciao cara, è molto più ecobio di me, se riesce a consigliarmi qualcosa, per coprire lo spazzolino da denti, magari di bambù, fammi sapere, se sai qualcosa, se conosci qualcosa di questo tipo, scrivelo anche nei commenti, che magari anche le altre ragazze, altri ragazzi lo vedono, per usare meno plastica, perché io ogni tre mesi, quando cambio spazzolino, cambio anche il copri spazzolino, mi servirebbe qualcosa, che magari può essere, possa essere anche riutilizzato, bene, gli ultimi due prodotti, bocciati, terminati, è questo deodorante, della DAV, a me non è piaciuto, non mi teneva sostanzialmente, io non ho più 15 anni, però questo deodorante, a me non tiene, in generale vorrei, passare di più, ai deodoranti bio, oppure, almeno io adesso, utilizzo il deodorante in stick, sempre della DAV, che non è che va benissimo, neanche quello, però, un po' meno gas nell'ambiente, no, a me, a me i deodoranti fatti così, non piacciono, piacciono a me amoroso, quando ci sono, li utilizzo, però, a lui non so se è piaciuto, ma non credo neanche a lui, bene, l'ultimo prodotto, ve l'ho fatto vedere già, in qualche altro video, dei preferiti, questa è l'ultima boccettina, che avevo, B oil, no, silicone, silicone, silicone puri, no, con gli stessi soldi, anzi, secondo me costa anche di più, comprate un buonissimo olio, di mandorra dolci, e andate lisce, avanti così, bene ragazzi, ragazzi, vi saluto, e alla prossima, ciao!